Reparti in armi schierati, tra i quali la bandiera di guerra del decimo battaglione Carabinieri Campania e una compagnia costituita dai 30 comandanti di stazione in servizio presso i reparti della città di Napoli e della provincia e le massime autorità questa mattina alla cerimonia del 198esimo annuale della fondazione dell'arma dei Carabinieri svolta nella caserma salvo da questo di Napoli. Il comandante interregionale, generale Maurizio Gualdi, alla presenza delle massime autorità civili e militari nonché delle vedove e degli orfani dei militari dell'arma, ha tracciato un resoconto delle principali attività svolte. Nel corso della cerimonia sono state consegnate due medaglie d'oro di valore civile conferite a militari che con eccezionale coraggio, dopo un conflitto a fuoco, avevano tratto in arresto due malviventi e attribuito i 27 incomi a militari distintisi in brillanti operazioni di servizio. Sono stati anche premiati sei comandanti di stazione per l'impegno profuso a favore della collettività. Presenti alla cerimonia anche il presidente della regione Campania Stefano Caldoro che ha sottolineato l'importanza dell'impegno e i risultati straordinari dell'arma e il sindaco di Napoli De Magistris che ha parlato di un lavoro straordinario dei Carabinieri che sono ovunque sul territorio e adesso anche sul lungomale liberato con le auto elettriche.